Un appartamento marridotto, muffa, umidità, acqua che sgorga da ogni dove. Questa è la casa di Mary Buscicchio, 52 anni, leccese, obesa e disabile. Una donna sole abbandonata, rinchiusa nelle sue quattro mura oramai da otto anni. Vive da sola, non riesce a camminare se non con l'ausilio di un girello. Il suo peso purtroppo non le è d'aiuto. Ora rischia anche di perdere la pensione per un errore commesso da terzi. Antonio Ligorio l'ha raggiunta nella sua casa di Lecce e l'ha intervistata per Idea Radio. E scriviamo ai giornalisti, così hai scritto nella tua lettera che è arrivata anche a noi. Dopo anni che me lo dicono, dopo anni che mi dicono scrivi, scrivi a quella teletrasmissione, scrivi a quell'altra. Vogliamo ripercorrere un po' questa lettera, appunto questa tua missiva. Qual è il messaggio che volevi lanciare? Mo te lo dico in una specie di metafora. Quando vediamo una tigre, no? In una gabbia, in un circo, e vediamo questa tigre, grossa, enorme, di oltre 200 kg, no? Diciamo, poverina, chiusa in una gabbia, come farà? Come si gira? Come non si gira? Ecco, io mi trovo esattamente in questa condizione. Come una tigre dentro una gabbia. Una gabbia stretta, una gabbia che non mi permette di muovermi, né di vedere il cielo, né di vedere il verde, né di vivere come un essere umano, o di essere vivente. Più che una gabbia l'hai chiamata una casa loculo. Un loculo, esattamente. Un loculo perché oltre ad essere prigioniera di questa gabbia, questa gabbia è umida, l'acqua esce da tutte le parti, io devo respirare quest'aria, quest'aria, come si dice, inquinata, quest'aria pesante. E che stai adesso respirando anche tu, penso Antonio, no? Mi ha colpito un altro particolare, otto anni chiusa qua dentro, mi sono dimenticata anche del colore del cielo. Sì, non lo vedo il cielo da casa mia, non si può vedere. Se ti affacci vedi muri, ma non vedi il cielo. E io, per me, il cielo, il mare, la natura, il verde, erano le cose proprio che mi portavano, che mi riuscivano a far vivere, no? Cioè, io quando ero nervosa prima, prendevo la macchina, quando ero in salute, prendevo la macchina, me ne andavo al mare, anche il mare in tempesta, quando c'era tempestoso, grigio, no? Mi dava quel senso di pace, di serenità, ritornavo, ritornavo, andavo a lavorare e mi sentivo serena. Oggi, oggi, che vedo? Senti, cosa fai tutto il giorno? Qual è la giornata di Mary, la giornata tipo? Nella giornata tipo, mi alzo un'ora, un'ora e mezzo circa, per rimettere a posto tutte le ossa e mettersi poco poco, diciamo, in movimento, grazie al girello che ho in dotazione. E poi, niente, magari, che so, mi siedo, scrivo al computer, faccio dei miei piccoli lavoretti, quando, diciamo, i dolori me lo permettono, faccio, che so, un ricamo, un cinetto, disegno, realizzo cose che poi finiscono sempre che le regalo, perché sono fatta così. Senti, le difficoltà, non ci nascondiamo, sono anche e soprattutto di natura economica, ne abbiamo parlato anche fuori onda, non so fino a che punto vuoi spingerti davanti al microfono, ma l'appello alle istituzioni, qual è l'appello che vuoi lanciare alle istituzioni? Quello che voglio lanciare è di non girare la testa, di guardare che c'è una persona che potrebbe fare tanto e voglio anche dire una cosa, l'obbeso, il disabile, non è uno che il cervello gli è andato in pappa, può anche stare seduto, ma fare tantissimo per la società. Io non so, non è perché io prendo un assegno di disabilità, significa che io sono una parassita, io come tutti i disabili non siamo dei parassiti, se ci mettono nelle condizioni di essere utili, noi vogliamo essere utili agli altri. Io questo chiedo, di non lasciarmi chiusa in questa tomba, seppellita in questa tomba, che tu stesso stai vedendo con i tuoi occhi. Tu sei presente su Facebook, noi ci siamo sentiti e conosciuti proprio attraverso questo strumento, quanti amici hai su Facebook? Uuuh mamma mia, non è che io guardo quanti amici c'ho, però... Dammelo un numero. Ti do un numero. Novecento? E' più uno quello che sei tu che ti sei inserita adesso furtivamente. Senti, e invece la seconda parte della domanda è, realmente quanti amici hai? Guarda, realmente, mi mortifica dirlo, ma nella mia città, di realmente forse ce ne avrò due o tre, di veri amici. Su Facebook forse un po' di più. Su Facebook devo dire, amici veri ne ho trovati, persone che anche adesso, e questo lo voglio dire per onorare queste persone, stanno smuovendo, cioè sono un terremoto, ecco, forse indicandoli come un terremoto, è grazie proprio a Facebook questo. Però ci sono delle persone che collaborano, io ti ho chiesto come fai ad avere la spesa in casa, i medicinali, eccetera, eccetera, quindi fortunatamente qualcuno c'è che ti pensa, insomma, dai. Sì, ecco, forse fanno parte di quei due o tre amici, cioè sì, c'è la farmacia Elia, ci sta il supermercato Sigma, che poverini stanno alle mie suppliche ogni volta, mi aiutano, mi aiutano tanto, sono delle brave persone e da tanti anni che sono, che mi servo del loro aiuto e devo dire che li ringrazio, ecco, li ringrazio veramente. Qual è il ramarico più forte, stando chiusa qua dentro? Tu hai detto sì, mi manca il cielo, mi manca il verde, mi manca la natura, ma il rapporto, non lo so, ti ricordi un'ultima cena fatta in compagnia di un gruppo di persone, te la ricordi quando è stata? No, non me lo ricordo perché è tanto tempo fa, e ti dico cosa mi manca, oltre il mare, che è il primo, il primo in assoluto al mondo, e le passeggiate in mezzo al verde, la mia bicicletta, pedalare, 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 il cinema, andare in una sala, mi fa piangere, ammaccione. Tu, so che non ti piace questa definizione, ma tu sei anche un artista, fai tante cose, che cosa fai? A me piace fare tante cose, soprattutto creare cartapesta, disegnare, e poi proprio i lavori più strani possibili mi piace farli. Cioè più è difficile, più io devo capire come si fa, e poi molto molto lavoro l'uncinetto, la maglia, sono il ricamo, ecco senza di quelli non potrei vivere, le mie giornate sarebbero vuote. Allora, venendo invece ai problemi reali, fortunatamente abbiamo, come dire, scampato un pericolo, quello che si riferiva insomma alla sostenzione della pensione, ma non stiamo adesso ad entrare nel merito, anche perché caso chiuso diciamo, ma rimane ad esempio questa storia della sedia che hai chiesto più volte, ti è arrivata, sbagliata, non idonee. Dal 2011 che io aspetto la mia sedia a rotelle, in più aspetto anche gli ausili adatti, come tu puoi ben vedere, hai visto che il girello non è adatto alle mie condizioni, si può spaccare da un momento all'altro e finisco per terra, e io se dovessi finire per terra, devo chiamare i vigili del fuoco per farmi tirare su, eh ragazzi, non scherziamo. E' una situazione che magari uno non se ne rende conto, perché ti vede, ti vede sorridere, ti vede parlare, e si dimentica del fatto, allora, quando io parlo sembra che le persone ascoltano quello che dico, però poi non riescono più a vedere quello che c'è intorno, no? Quello che c'è intorno a me è tantissimo purtroppo, ed è, sono in pericolo continuo, nel senso che basta niente per farmi finire a terra. Senti, questa sedia che cosa ti permetterebbe di risolvere? Immagino piccoli movimenti, anche... No, la sedia è fondamentale. Primo, per iniziare, se trovassi qualcuno che mi cominciasse a iniziare, come devo dire, deve essere riabilitata ad uscire da casa, perché dopo otto anni chiusa dentro casa, non si può prendere una Mary e dire, ah ti prendo, ti carico sulla sedia a rotelle, e ti porto a passeggio come fossi un cane. No, perché Mary ha proprio paura di uscire. Ora, quello che la sedia dovrebbe essere, dovrebbe essere un mezzo nel caso non sia mai dovesse succedermi un'emergenza sanitaria, per cui come mi sposti? Quindi la sedia sarebbe un mezzo immediato per potermi portare via. La sedia sarebbe l'ideale per poter andare a fare delle visite esterne. Perché io non faccio un esame cardiaco da otto anni. Non so se sono, parliamo chiaramente, queste sono cose naturali, la menopausa a 52 anni, non si sa se c'è, se non c'è. Sono visite importanti quelle. Stai sotto controllo, non sai neanche che cosa... Cioè, io così obbesa non ho diritto. Senti, il tempo è già terminato a disposizione, perché purtroppo i tempi radiofonici sono quelli che sono. Lasciamoci con un messaggio, lo abbiamo detto prima anche in fuorionda, un messaggio a chi ci sta ascoltando, e magari anche in una situazione non uguale alla tua, diversa, ma nel silenzio più assoluto. Tu hai trovato il coraggio di coinvolgere la stampa, di urlare, di gritare questa situazione. Cosa diciamo a queste persone? Io dico a queste persone di non nascondersi, di essere solidali l'uno con l'altro soprattutto, e di non nascondersi, perché più ci nascondiamo, più abbiamo paura di parlare, e più queste persone che dovrebbero aiutarci a agevolare la nostra salute, e darci il modo di vivere con dignità, se ne approfittano. Allora, è vero, è difficile, è difficile, ma io nella difficoltà che ho trovato ad espormi, ho trovato tanti cuori meravigliosi che mi stanno facendo sentire non un'obesa, ma una farfalla. Siamo alla vigilia di Pasqua, Santa Pasqua anche a Mary. Grazie, anche a voi, e io nel mio piccolo, se posso essere d'aiuto a chiunque, sono disponibile, anche solo a parlare. Grazie. 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 Grazie.